Un libro per l'Europa, di Thierry Visol. Vuol dire che tu sei andato a vedere chi sono questi partiti populisti e che cosa fanno in Europa? Sì, innanzitutto ho visto quanti sono, e sono veramente tanti, circa il 21% dell'attuale Parlamento europeo eletto nel 2014 è riferibile a questo genere politico che chiamiamo, con un termine necessariamente generico, populismo. E allora appunto, che cosa è il populismo? Perché il 21% dei eletti, forse non dell'elettorato, ma dell'eletti, chi sono? Perché come mai le chiamiamo populisti? Diciamo, fra le tantissime definizioni possibili, perché il fenomeno è molto complesso, io ho scelto quella più semplice, essendo io un giornalista cerco di comunicare le cose in maniera più semplice possibile. C'è quella di una risposta sbagliata ad un fenomeno reale, ad un disagio reale, anzi un disagio che c'è nella popolazione, soprattutto negli strati bassi della popolazione in tutta Europa e a quanto pare anche in America, vista l'elezione di Donald Trump. Diciamo, ad una serie, ad un disagio che però è reale e che ha delle cause molto abbastanza ben individuabili. Quindi nei fenomeni di globalizzazione, in quella che Bobbio per esempio ha definito la vittoria del mercato, che è stata una vittoria del mercato sull'economia sovietica prima, ma poi in definitiva è stata anche una vittoria del mercato sulla democrazia, perché i due termini non sempre sono così facilmente conciliabili. E quindi questo ha prodotto una serie di tensioni sociali, ha prodotto delle nuove disuguaglianze che non c'erano, ha prodotto una perdita di lavoro, ha prodotto in definitiva anche la crisi. E soprattutto ha prodotto l'immigrazione che è un po' quello che ha fatto esplodere, diciamo, guardando bene il fenomeno del populismo in tutta Europa. Tuttavia, come lo fai vedere nel tuo libro, la salita di questi partiti al potere risale anche prima della crisi economica e prima delle grandi onde, diciamo, di immigrazione. E il problema è che in tutti i paesi, uno, sono cresciuti e secondo hanno anche influenzato gli altri partiti, perché i partiti tradizionali non sono riusciti a essere in grado di uscire della situazione di crisi, del disagio sociale, eccetera. E quindi c'è una perdita di fiducia verso questi paesi che lascia aperta la porta a questi populismi. È così? Sì, esattamente così. Diciamo che il populismo è un fenomeno, diciamo nel senso proprio etimologico del termine, cioè un fenomeno politico nel senso di una manifestazione politica di un qualcos'altro. E questo qualcos'altro è una crisi della democrazia liberale rappresentativa, cioè della democrazia come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni. E quindi anche di una crisi, ovviamente, dei partiti politici, delle strutture intermedie della società, dei sindacati, le stesse camere, gli stessi parlamenti, stanno subendo un processo di crisi. Quindi il populismo è, diciamo, nello stesso tempo causato da questi fenomeni di evoluzione della democrazia, è anche la causa a sua volta di un ulteriore peggioramento di questa situazione. Perché, diciamo, la predicazione di un atteggiamento completamente negativo nei confronti della politica, nei confronti della rappresentanza parlamentare, delle élite, salvo poi eleggere, diciamo, a propri rappresentanti, i peggiori rappresentanti di questa élite. Perché, se prendiamo il caso di Donald Trump, Donald Trump non è uno dei dimenticati della globalizzazione. No, sicuramente no. Quindi, insomma, gli esempi in questo senso sono tanti. Quindi, tutto questo ci porta, secondo me, a dire che, alla fine, fra le tante definizioni del populismo, una, forse la più attendibile, è quella di essere uno specchio di una rottura sociale, politica, fra governati e governanti. Ma il problema, come lo fai vedere nel tuo libro, è che quando questi partiti populisti arrivano al potere, la loro oversimplificazione, diciamo, di tutti i problemi si confronta con la realtà che è estremamente complessa. E quindi perdono voti, salvo in due paesi, in Polonia e in Ungheria, dove sembra che i regimi che sono stati creati dai movimenti populisti, il PIS in Polonia e il movimento di Viktor Orban, loro funzionano. Allora, c'è il timore che tutta questa peste, diciamo, nazional-populista si ripende in Europa o tu pensi che a un momento o un altro la gente capirà che queste sono false piste? Beh, le elezioni in fraccia di Emmanuel Macron sembra indicare che la gente forse non è entusiasta dell'Europa, però preferisce stare in Europa che correre avventure, almeno in una parte dell'Europa occidentale, correre avventure solitarie. Né Orban né i polacchi vogliono uscire dall'Europa, vogliono ricevere soldi, ma non vogliono avere, diciamo, altri. E ne ricevono tanti, perché il 6% del prodotto interno lordo dell'Ungheria, così feroce nei confronti dell'Europa, deriva da fondi strutturali, fondi, insomma, da finanziamenti europei. Quindi per questo vogliono tirare la corda, ma senza arrivare a spezzarli. Io non credo che ci sia una possibilità di, diciamo, chiamiamolo per semplificare, ma non è così, di un morbo di vicegrad all'Europa occidentale. C'è una frattura molto netta che divide l'Europa verticalmente, da una parte l'Europa occidentale che ha sue forme di populismo, dall'altra questo populismo, diciamo, autoritario, che si è sviluppato nell'Europa orientale, che ha contagiato anche, ma non da oggi, la Repubblica cieca. E che ha altre radici, altre ragioni, e forse evolverà. E quindi per capire meglio tutti questi problemi legati al populismo in Europa, vi consiglio di leggere questo libro di Paolo De Lucca, Gli apprendisti stregoni, mappa del populismo in Europa, pubblicato da La Rufa, editore nel 2017. Grazie Paolo. Grazie. Un libro per l'Europa, di Thierry Visol.